Io ho partecipato qualche mese, sei mesi fa circa a un incontro dove realmente nella divisione delle risorse a livello delle aspe siciliane rispetto al 2011 quando ce l'avevamo al governo, il governatore Lallobardo e io il Presidente della provincia avevamo messo come tetto spesa, che significa tetto per il personale, avevamo messo 141.870.000 euro. Adesso vado a vedere che l'unica aspe che perde risorse rispetto al 2011 è l'aspe dei Caltanissetta. Ci hanno dato 5 milioni in meno, l'ho denunciato questo sei mesi fa, l'ho continuato a denunciare, non se ne era accorto nessuno, nessuno è intervenuto. Adesso finalmente se ne stanno accorgendo, io l'ho sempre detto che mancando queste risorse tre cose non si potranno fare. L'utine di Gera, la Breast Unit e non si potranno stabilizzare i precari della provincia regionale di Caltanissetta, dipendente dell'aspe. Quindi è un dramma realmente. In più succede che il governo del PD e quindi Gucciardi ci carica ancora altri 2 milioni e 3 che sono le risorse che servono a mantenere il 118, che è una struttura regionale, ce ne sono tre in Sicilia, Palermo, Caltanissetta e Catania. Ebbene, l'aspe di Caltanissetta si dovrebbe caricare anche queste 2 milioni e 3. Questo significa che non si potrà assumere nessuno, che i servizi non potranno essere garantiti, per cui il personale se ne andrà sicuramente. I migliori professionisti che abbiamo, soprattutto a Gela, perché Gela c'è la carenza. E quando nel 2011 era stata fatta una programmazione provinciale dell'aspe, cos'era stato previsto su Gela? Era stato previsto la radioterapia che allora l'assessore russo ha aperto, l'ospice che è già stato aperto e c'erano altre due strutture. Ecco quelle risorse che servivano per aprire le altre due strutture. L'utile e l'abbersione. Ma perché alla fine sembra una scarica a barile? La colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Perché invece non si agisce concretamente per la salute dei cittadini? Quando si governa si hanno delle responsabilità. Se qualcuno mi dice, io parlando con l'assessore Gucciardi in quella seduta, l'assessore Gucciardi mi dice che è stato fatto un errore. Scusate, è stato fatto un errore, ma viene penalizzato il territorio di Gela. Quindi si deve intervenire, devono recuperare. E non può essere che solo perché è stato fatto un errore viene penalizzato un territorio. Io mi auguro che ognuno faccia la sua parte. E che il PD, inutile che si nasconda dicendo che è il governo regionale, è il governo del PD, l'assessore Gucciardi del PD, Rezziano, e quindi che si muovono tutti affinché le risorse arrivano e vanno a garantire quei servizi che nella divisione provinciale servivano all'ASP di Caltanissetta. Perché è vero che sono fatti a Gela, ma sono servizi che servono a tutta l'ASP. Per della beca politica che fa? De piangere la conseguenza della cittadinanza? Non è il problema della conflittualità. Io dico solo le cose. Noi nel 2011, noi avevamo previste queste risorse. Oggi qualcuno le ha tolte. Qualcuno ce le deve ridare. Non ci devono mangiare niente, ci devono dare quello che ci spetta. Perché mentre tutte le ASP siciliane non perdono un euro, anzi l'ASP di Trapana aumenta 6-7 milioni di euro rispetto a budget del 2011, noi perdiamo 5 milioni. Quindi è inconcepibile che se aggiunto con le risorse 118 sono 7 milioni e 3.